Buongiorno, passiamo nella dialisi dell'ospedale di Orocca ad Asmara in Eritrea. Passiamo con il paziente, qual è il tuo nome? Futsum Bata. Il tuo age? A 52 anni. Quando è stato di dialisi? 2015. 2015. Quindi adesso sono 9 anni che fa dialisi qua alla Asmara. Consideriamo che la dialisi qui in forma sperimentale è partita nel 2008, diciamo in forma continua dal fuori dal 2012-2013. Per cui lui è stato uno tra i primi pazienti, ora sono 9 anni. Cosa pensa della dialisi in genere? Se è stata un'ottima cosa per la patta? Come si trova lui? Quando sta crescendo? 9 anni? Allora, quando l'inizio ho cominciato il dialisi qua all'experimentale con i primi pazienti, allora quando l'inizio ho cominciato il dialisi qua all'experimentale con i primi pazienti. Lui dice che le macchine, non è che andavano bene, ma con queste nuove macchine, con il progresso che hanno fatto tutti gli anni, sta andando tutto liscio e ringrazia per il lavoro che avete fatto voi. E' stato un'ottima idea per fare una cosa del genere perché lui, come aveva detto prima, riesce ad avere una vita normale, diciamo, sopravvivendo, lavorando e mantenendo la famiglia. Quindi, la speranza ora è che riusciamo ad ingrandire sempre di più in modo tale che si può dare risposta a tutti i potentici pazienti che avranno bisogno di un'ex. Ok, I remember the first time, ricordo quando l'ho visto la prima volta, sembrava più anziano. Ora sembrava più giovane, è vero? Sembra che state togliendo gli anni e poi alla fine. Ah, ok, perché sta bene questo. Allora, io andiamo a Puzzumi. Thank you, thank you Puzzumi.